Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Crazy Craft Come potete vedere qua ho piantato un nuovo formicale Come potete vedere sono anche già spawnate le formichine che vanno nel nether Sono attrate dal nether queste formichine che ci si sono buttate dentro Vabbè non lo so comunque sono queste qui instabili Che ragazzi non è che mi vanno a mangiare la casa No in teoria no però si stanno avvicinando pericolosamente E' morta sul cespuglio Che tristezza no comunque ok non servono pericolose ragazzi ci serviranno dopo Ma prima bisogna fare un bel po' di cose Intanto ma ne avevo molte di più di Golden Apple che fine hanno fatto Devo bruciarle ragazzi le brucio perché queste qui almeno quelle normali standard Non mi servono a nulla brucio anche la metà di quelle OP non tutte Perché comunque quelle OP ragazzi beh sono quelle OP e mi serviranno Detto questo devo fare un pochettino di modifiche Intanto qui ho catturato le mie bellissime mucche OP dall'ultima volta E ragazzi qua si nota una bella cosa io in verità ero salito anche qua sopra per fare un'altra cosa Praticamente mi avete detto guarda le mucche piccinine non crescono se sotto non c'è l'erba E io infatti in questo episodio tra tutte le cose che volevo fare una delle tante era mettere l'erba qua sopra Però ragazzi erano 4 mucche grosse quindi sono cresciute Non mi venite a dire che non crescono se poi non è che sono andato in qualche modo le ho moltiplicate e io le ho fatte crescere No no sono cresciute da sole quindi ragazzi effettivamente quelle piccoline crescono anche se non c'è l'erba sotto Io sinceramente non sapevo nemmeno la cosa dell'erba Però a quanto pare una cazzata Detto questo Quante ne sono venute? 5 piccoline Perfetto ragazzi buonissima come cosa E vabbè poco a poco poco a poco si moltiplicheranno dai Ottima cosa Detto questo io sì voglio andare qui e moltiplicarmi anche questi qua Come si è visto hanno un bel valore non costano tantissimo Ah sono staccabili in 16 Mmm non mi piace molto questa cosa Però vabbè ci servono quindi li prendiamo Oh non dovevo tirarlo Quindi andiamogli a mettere nel nostro saccottino qui Che ci serviranno per il futuro appunto queste qua Un'altra cosa che volevo testare in questo episodio è Ragazzi nell'ultimo episodio abbiamo veramente rischiato tantissimo Ma tra l'altro avevo detto a inizio episodio Secondo me sono fatto un cuore extra Ragazzi il cuore extra può essere utile ma non fa la differenza E poi affronto il boss e rimango con mezzo cuore di vita Tipo ha fatto la differenza tantissimo lì perché senza quel cuore extra sarei crepato tipo troppo Comunque il mio test principalmente è vedere se questa armatura qui È meglio o peggio rispetto alla mia E poi eventualmente ci posso fare qualcos'altro o no Solo armatura niente sfade Proviamo ragazzi Tipo questo qui così mi dà tre di resistenza Mentre in questo modo è la madonna ragazzi è molto più forte la mia armatura Cioè la mia armatura quella che mi potrei fare ora Tra l'altro guardate ha un protection 10 e tutto che non viene conteggiato Quindi ragazzi purtroppo penso che sia arrivato il momento di eclissare la mia vecchia armatura Ma non del tutto non del tutto perché ci sono alcune cose che voglio farvi notare Intanto me la faccio tutta perché è giusto così Allora intanto avevo trovato anche in passato quella in ultimate Quella in ultimate resiste molto bene Però quella di mobzilla è più potente di un pezzettino Quindi quella in ultimate si può anche buttare Che poi non ha incantamenti mentre questa qui ha incantamenti Comunque no Semplicemente ragazzi questo vestito dell'armatura qui guardate È questo quello che mi fa volare E a noi il volo serve tantissimo Perché se no bisogna cominciare a riutilizzare Anzi ricominciare a utilizzare la morph E noi non vogliamo riutilizzare la morph Cioè è brutta Non ci piace per niente Quindi il corpetto continuerò a utilizzarlo Però guardate resiste 4 Cioè fa 4 di protezione Mentre questo qua guardate quanto cavolo fa E poi ripeto ha protection 10 Quindi il mio intento era quello di utilizzare l'armatura normale Ragazzi che praticamente cioè guardate già così abbiamo una full armor Comunque no ci andiamo a mettere questo e anche quest'altro Così ragazzi in caso qualcuno dovesse attaccare Comunque non prenderemo danno perché la protezione ce l'abbiamo Quella che all'inizio non si prenderanno Perché abbiamo l'armatura che comunque funziona in energia E semplicemente gli altri pezzi funzionano come pezzi d'armatura normale Sarebbe interessante potenziare al massimo tutti i pezzettini Il punto è che questi qui hanno qualcosa di memorizzato? Sì ragazzi hanno questi qua normali memorizzati Quindi siccome questa armatura qui io dico che potremmo decisamente levarla di torno Andiamo a levare qualsiasi pezzettino che può avere E lo buttiamo qua dai Ok Poi questa qui che è quella che invece continuerò a utilizzare Può essere potenziata ancora di più? No posso soltanto levarli E contiene ben 6 ovvero tutti quelli che posso installare Però di livello basso Beh io ne ho 9 di questi qua potrei andarli a potenziare Considerando che mi ha avanzato un pochettino di draconium Potrei fare quelli di livello successivo Sì perché no non lo farò oggi ragazzi Però mettiamo tutto qui in futuro si farà tutto quanto Io questo non me lo porto dietro Questo si butta E perfetto così siamo messi bene Ma ragazzi perché mi sto preparando? Perché effettivamente è palese che mi stia preparando per qualcosa Sì decisamente Intanto mi carico oh mio dio ha scaricato tutto Vabbè bruciamo un understar Ok prendiamone una E riprendiamoci l'energia Aspetto che faccia notte Poi la metto qua dentro e ci allontaniamo Comunque ragazzi sì mi sono preparato perché nell'ultimo episodio sono rimasto stra deluso Dalla mia armatura e della mia spada Mi aspettavo veramente molto molto di più Sono triste per questo Sono triste quindi voglio cercare un upgrade E mi avete consigliato nei commenti appunto di andare nella dimensione E provare a affrontare il dungeon più forte del gioco Cosa che proveremo a fare in questo episodio sperando ci vada bene Intanto andiamo a letto però Praticamente affrontando questo dungeon molto molto difficile Dovrei riuscire a prendere degli ottimi materiali a livello di armature e tutto Che mi potrebbero potenziare tantissimo Detto questo però io questo qui dietro me lo voglio portare Perché ragazzi ricordiamoci dei vermoni I vermoni che appunto mi risucchiano la roba da addosso Quindi non vorrei ecco rimanere senza Detto questo mettiamo qua l'understar Io l'armatura la metto già qua a caricare E me ne schiappo instant perché qua se no ci crepo troppo E non mi vedo nemmeno i cuori ragazzi Non... Ma sapete che forse non sto prendendo danno? Ragazzi no non mi dite che... Quest'armatura è così forte che non prendo danno Io mi ricordo quella vecchia armatura Esatto vedete non ho perso nemmeno mezzo cuore Con le vecchie armature invece a stare lì Comunque quando si consumava tutta la barra in basso a sinistra Cominciava a prendere danno e ne prendeva anche molto Cioè ragazzi se non stava attento crepavo tantissimo E invece con questa armatura qui nemmeno mezzo cuore Quindi ragazzi in poca parole questa armatura è veramente molto 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 ma tantissimo più forte Rispetto a quella che avevamo prima Ovviamente questa qui ragazzi ha i suoi pro appunto che guardate Fa consumare prima la barra in basso a sinistra E quindi vabbè c'è poco da dire Questa cosa qui è sgravata perché non piglio knockback e mi fa volare Quindi questo pezzo ha senso di continuare a essere utilizzato Detto questo tutte le formichine che volevo che fin hanno fatto Eccole qua Beh ragazzi non c'è molto da dire Andiamo nella nuova dimensione A caccia del nuovo dungeon Stavolta messi molto meglio del solito Dai andiamo Eccoci qua ragazzi eccoci qua Questa qui è la danger dimension Appunto una dimensione pericolosa Ci sono dungeon molto stupidi A me non mi interessa assolutamente questi dungeon qui Perché li abbiamo già visti Non in questa serie ma comunque nel mio canale sono cose già viste tantissimo A me interessa andare al centro dell'azione Ovviamente ragazzi comunque ci sono varie varianti Quindi magari esploriamo un attimo Perché comunque vi ricordo che abbiamo anche le reti per catturare dei nemici Potrebbe essere interessante come cosa Ci abbiamo tutte le nostre cosettine da valutare Ma comunque lo scopo è quello di cominciare a ottenere una spada più forte ragazzi Perché io purtroppo con questa qui faccio danno Ma ora come ora utilizzo due spade Cioè ragazzi lo so benissimo eh Me lo direi sempre nei commenti posso utilizzare due spade Ma io due spade non le utilizzerò mai Io preferisco utilizzare due spade Nel senso di avere nell'inventario La prima questa qua è buona Se il nemico ha molta vita e poca protezione Questa qui invece è una spada di merda e basta La tengo così tanto per Ma mi servirebbe la royal ragazzi La royal sarebbe perfetta Ed è ciò che voglio ottenere in questo episodio Quindi ragazzi andiamo e valutiamo Il dungeon che sto cercando è tipo questo qua Però questo qui come si può vedere Ha cinque piani Cinque piani non ci bastano ragazzi Noi vogliamo un dungeon a sei piani Quindi ignoriamolo direttamente Anche questo qui cinque piani Già che ci siamo però Chigliamo un attimo questo qui ragazzi Perché nella mia morph mancava E la pallina la amo Quindi dovevo ottenerla Uh Questo Questo se non sbaglio è buono È appunto quello del The King Non della regina E quindi dovrebbe essere quello che interessa a me Intanto Island Block Ok boh Penso di averli ottenuti quando ho chiglato la gecgino Prendiamo la Reigan Che ragazzi servirà tantissimo E andiamo a distruggere gli spawner Prima di avvicinarsi ragazzi ovviamente Anche se effettivamente non mi costa nulla avvicinarmi Però non c'ho sbatti di far spawnare tutti questi mob Cioè è veramente una rottura assurda Soprattutto perché non ho tantissimi utilizzi nell'armatura e tutto E quindi preferirei evitare Detto questo ragazzi Ci rivediamo quando ho finito di eliminare gli spawner Ci vorrà un po' Purtroppo l'ho quasi consumata So benissimo che potrei ripararla semplicemente con un pezzo di redstone Con un blocco di redstone Ah no ok non mi si distrugge Beh la redstone comunque lo so che c'è laggiù Cioè vedo la struttura con i blocchi di redstone Ma per il momento faccio cambio Tanto ne ho altre Quella consumata la metto qua dentro Mettiamola qua E io continuo con quelle cariche dai Forse li ho eliminati tutti Non ne sono sicurissimo Ah no ok ne sono rimasti due da questa parte Però poi sono finiti Oh c'è questa cosa qui che Ma te levi io? Ma che cosa vuoi fare contro di me? Comunque ok Ultimo E sbamme ragazzi In teoria abbiamo bonificato completamente l'area Io ora vorrei controllare un attimo Sì ok ci sono un po' di buchi sparsi ovunque Però più o meno Cioè più o meno no Ho eliminato qualsiasi cosa Quindi ragazzi è il momento di andare qua Allora prima di tutto Vanno oh mio dio Volevo eliminare subito gli spawner qua ragazzi Perché questi qui sono i vermi che mi rubano le cose E quindi Ok perfetto No ho finito subito la cosa Mannaggia oh Ne ho un'altra Ditemi di sì Ok sì perfetto Ne ho un'altra piena Perfetto E ragazzi il problema è che qui nella terra Ci potrebbero essere rimasti i vermi E i vermi mi risucchiano le cose E poi eventualmente con esplosioni e tutto Potrei perdere tutto quanto Quindi La meglio mi sa che è distruggere la terra E che se ne frega delle ceste Soprattutto da qualche parte qui ci dovrebbe essere anche il piano di sotto Dovrebbe stare agli angoli se non sbaglio Ma non c'è Nemmeno di qua No comunque ok I vermi non mi sembra ci siano Ok ho trovato il pezzo per andare di sotto Perfetto Uh Quindi Mi ci avvicino un attimo Non vedo schifezzoni Le cose di smeraldo ragazzi Costano Ma non le prendo Prendo gli smeraldi Perché gli smeraldi ovviamente hanno senso di essere presi Perché sono accumulabili E ne posso portare molti Che brutti rumori Però l'armatura comunque robe varie ragazzi Per quanto possono costare Purtroppo non posso prenderle Le lascio qua Andiamo di sotto dai Ok ragazzi anche questo piano qui è fatto Non è stato difficile dai Vediamo qua cosa hanno Hanno schifezze Sempre schifezze No ragazzi non c'hanno nulla di buono assolutamente Ok Nulla di buono E si scende da qua Vediamo un attimo che il basilisco Come al solito ragazzi Io vado qui Spacco tutto Già gli spawnerrotti Beh perfetto Perfetto Contro di loro come al solito Il mio anellino non fa nulla Perché vabbè ragazzi Purtroppo non posso pretendere chissà che cosa La mia armatura è messa benino ancora Dai Vabbè ragazzi io comincio a usare questa spada qui Perché veramente Già contro loro Comincia ad essere un problema Poi mi zoomano ultra visuale Non ci capisco nulla E dai ragazzi Perfetto Perfetto Li abbiamo eliminati quasi tutti E ora comincio a prendere Cioè ragazzi guardate che bello Ora Se non Se avessi avuto la mia armatura normale Avrei cominciato a prendere un bordello di danno Invece con questa armatura qui Che è OP Guardate un pochettino Non prendo praticamente nulla di danno Perfetto C'ho anche fame Vabbè Mangio le mele OP se ho fame io Però ragazzi Che sti cosi qui sono troppi Ma l'ho levato lo spawner Cioè veramente Mi sembrano infiniti Dai che è l'ultimo Dai che è l'ultimo lui Olè Perfetto Ragazzi Che dire Siamo pieni di smeraldo qua Siamo veramente pieni di smeraldo Quindi Io mi svoto un attimo l'inventario Anzi Divido subito le cose così In modo che se passo sopra Prenda tutto lo smeraldo Cioè E' pienissimo E' pieno Ma poi ci sono anche i blocchi di smeraldo No raga Top E vabbè Si Comincio a prendere anche i blocchi Ragazzi Certe cose Non posso di certo lasciarle qua Assolutamente Non ce n'è tantissimo Almeno di blocchi Non ce ne sono tantissimi Però è comunque qualcosa Qua invece nelle chest Ci sono le robe di ammetista Eh no vabbè Sono ammetista E schifezzine varie Vabbè ok Io comunque Ragazzi Non mi lamento Guardate quanto smeraldo abbiamo fatto Sono 3 milioni di MC Cioè ormai ogni episodio Facciamo veramente ogni episodio Milioni e milioni di MC Cioè E' una cosa assurda Detto questo Anche questo pezzo di dungeon qui è fatto Possiamo andare al piano di sotto Quindi andiamo Non so cosa mi aspetta qua Ok Hercules Beetle Sono gli scarafaggioni brutti Io qua intanto Già gli spawner distrutti Come al solito E Proviamo a usare questa spada qui Non fa danno ragazzi Non fa danno questa spada Ho una spada migliore intanto Questa fa 31 No Devo usare per forza la mia Che funziona energia E se invece non le affrontassi Cioè in queste chest C'è roba buona Beh C'è questa roba qui Che è carica intanto L'altro raga A me che mi frega Non piglio knockback Cioè ma io me ne vado di sotto Tanto volo L'importante È assolutamente Eliminare gli spawner Perché Gli spawner fanno casino Poi Qua ci sono delle uova E la sparina che ho già Uova e spada Ok non mi interessano Andiamo direttamente al piano di sotto Dove Oh mio dio Ok questo è l'ultimo piano Ma è giusto che sia questo l'ultimo piano ragazzi Perché io non ne ho la minimedia Forse Ho sbagliato dungeon Ah io fanno male Fanno male Vabbè devo prima però innanzitutto Levario questa cosa qui Ma sto prendendo knockback Cavolo non ci riesco se piglio knockback Ok vado nell'angolo Così non mi colpiscono Aspetto che mi si rigeneri Un pochettino l'armatura Così non piglio knockback Poi vado qui No raga subito Me la distruggono subito Non so cosa fare Potrei provare qui E sparare No raga non ci riesco Raga non ci riesco proprio Ok ok qualcosa l'ho lanciato Non so se sono rimasti altri spawner Però non ne ho la minima idea Devo usare assolutamente la spada Qui devo usare la spada Oppure E mi stanno rimbalzando supero Ok Perfetto ragazzi Allora ritengo distanti col mio anello Tanto se consumo tantissima MC Non mi interessa nulla Sono stra pieno E con questo dovrei tenerli Comunque lontani Ah ok Spawner li ho eliminati tutti Quindi ragazzi Devo soltanto eliminare questi qui Poco a poco Comunque ce la dovrei fare dai Però devo controllare se Il dungeon giusto Ok si Ragazzi c'è l'armatura Quindi è quello giusto È quello giusto Alla finiamo di eliminarli E poi missione compiuta Dai Non è andata male Oh mio dio No ho ribeccato il buco Ragazzi non ci credo E basta spedirmi su E su E vabbè ragazzi Assurdo E assurdo E stavo tanto bene Quando non prendevo knockback Ok però Ripeto Vanno soltanto eliminati Quindi ce la posso fare La mia armatura è messa stra bene Alla fine Non mi fanno tantissimo danno È soltanto che la mia armatura Si consuma subito Cioè si scarica più che si consuma Però guardate un attimo ragazzi Spadina come al solito Top Quindi il dungeon Si affronta abbastanza bene Ok Le sto facendo fuori tutti Poco a poco Penso ne siano rimasti 3 o 4 Forse 5 Mi sa che sti cosi In tanto si incazzano di più Perché Certe volte non riesco veramente A colpirli È assurda come cosa Ok ragazzi Uh Ne è rimasto soltanto uno È l'ultimo ragazzi È l'ultimo Ce la posso fare Ce la posso fare dai Vediamo Vabbè non c'è molto da vedere comunque Perfetto È eliminato Mamma mia È stato difficilissimo Questo livello qua Però C'è da dire una cosa È stato sì difficile Ma questo ragazzi È il dungeon In assoluto Più forte Di tutto il gioco Di tutto il pacchetto Che stiamo provando In questo momento Quindi giustamente È stato difficile Qua non c'erano i boss più forti Qua diciamo che c'erano i boss Secondari più forti Perché Il boss più forte Fino ad ora L'abbiamo affrontato Nell'ultimo episodio E appunto Era Godzilla Mobzilla Anzi È stato il più forte Che mi ha affrontato Fino ad ora Ragazzi qui C'è lo spawn Del principe Che è tanta roba Che comunque dovrebbe essere Il nostro alleato Abbiamo La full armor Royal Che ragazzi Porca puttana È l'armatura Più potente Del gioco Insieme a Quella della queen Che comunque magari Otterremo in futuro E anche la sua spada Che ho appena preso Ho detto questo Andiamo su questo blocco Così si esce Non funziona ragazzi Perché non funziona Nooo L'ho rotto Mannaggia a me Vabbè Non importa Alla fine Possiamo anche spogliarci qui Non ci vergogniamo di certo Guardate ragazzi L'armatura di Mobzilla Da 3 di protezione 3 e mezzo E qui ha protection 10 Questo qui Ha protection 10 Come questa armatura qua Però guardate un pochettino Protegge mezzo in più E stiamo soltanto parlando Delle scarpette Poi ovviamente 26.000 usi Contro i 13.000 Di quest'altra Che avevo già consumato 2.000 usi What the fuck Ragazzi Comunque Questa qua è particolare Le scarpettine Per chi hanno Vedere falling Cioè Ragazzi È una cosa che io odio L'atterraggio morbido Così Perché la trovo Estremamente fastidiosa È vero Non pigli danno la caduta Ma no Decisamente no Io voglio essere in grado Di muovermi liberamente Tra l'altro con questa armatura Qui che volo Eh no È plano lo stesso È una cosa odiosa Planare ragazzi Queste qui non le userò mai Però ecco Se andiamo a vedere magari Già i pantaloncini Guardate un pochettino Ci danno un mezzo in più Sono molto più resistenti A livello proprio di utilizzi Dovrebbe essere più potente Anche l'armatura e tutto Ragazzi È una bestiaccia Questa armatura qui L'unico problema È che continuerò a utilizzare Le scarpettine di Mobzilla Perché Questa qui ragazzi Veramente Non le sopporto le altre Comunque abbiamo guadagnato Un altro po' Da armatura ragazzi Siamo più potenti Ma soprattutto Possiamo buttare Completamente via Questa spada Perché guardate Cosa abbiamo trovato La spada Royal Da 750 di anno Che andremo subito A provare Nel piano superiore Ragazzi Guardate Guardate che roba Cioè Ora Non per dire Ma noi Questo piano qui L'abbiamo saltato Perché Non perché fosse difficile Ma perché comunque Era uno spreco di tempo E comunque Quei 3-4 minuti Ce l'avremmo messi A ucciderli tutti E invece guardate Con questa spada qui Veramente pochissimi secondi Pochissimi colpi Anzi Un colpo a testa Guardate questi qui ragazzi Ok questi qui Effettivamente Ammetto che resistono Un pochettino di più Ma noi li avevamo Già provati a attaccare Ragazzi Guardate Due colpi A testa E crepano tutti quanti E' una roba Assurda Veramente Dall'altro mi danno Anche i blocchettini Diamante Ma non li voglio Non mi interessano Detto questo Niente ragazzi Abbiamo affrontato Il dungeon Più potente del gioco Abbiamo un miscuio D'armature a caso Nel prossimo episodio Affronteremo velocemente Ma veramente Ci metteremo pochissimo Un altro dungeon E vedremo un attimo Se si possono mischiare Ancora di più le armature Ragazzi Perché non esiste L'armatura più forte del gioco Perché ogni armatura Ha le sue particolarità Tra l'altro Se non sbaglio Era questa l'armatura Che mi faceva volare Ragazzi Sapete che non me lo ricordo Vediamo un attimo No non mi fa volare Ok era un'altra A quanto pare Questa non mi fa volare Forse era quella della Queen Non ne sono sicurissimo Comunque ragazzi Sì ogni mod Ogni armatura Ha le sue particolarità Quindi Per affrontare i boss finali Dovremmo unire Tutte le forze Tutte le nostre cose Che abbiamo imparato Durante l'uso di questo pacchetto E unirle Per diventare in assoluto I più forti al mondo Detto questo Io spero che questo video Leggissimo Mi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti